Quando il cielo baciò la terra, nacque Maria, che vuol dire la semplice, la buona, la colma di grazia. Maria è il respiro dell'anima, è l'ultimo soffio dell'uomo. Maria discende in noi, è come l'acqua che si diffonde in tutte le membra e le anima, e da carne inerte che siamo noi, diventiamo viva potenza.